Musica 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 No, non mi hai fatto il peccino. E mi chiamo di riprendere gli uccelli. E guardate la chiccheria del cucchiaio. C'e' un ruido. C'e' un ruido. E, è un ruido. E, va a vedere. Noi sono un ruido. C'è un ruido. Grazie a tutti 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 Io che sono andata a fare a Napoli per ritirare la pergamena della mia seconda laurea evviva Che cos'è questa? Questa è la pergamena della mia seconda laurea in pedagogia interculturale così potrò finalmente fare l'educatrice evviva evviva la cultura grazie a tutti grazie a tutti